Carmen Russo ha fatto, in un'intervista, una rivelazione sul suo passato. La ballerina ha raccontato com'è nata la sua passione. Carmen Russo è stata al centro dell'attenzione negli ultimi mesi a causa della sua vita privata. Si è infatti più volte parlato di una rottura da Enzo Paolo Turchi. Per settimane le indiscrezioni hanno visto protagonista la coppia, ma ad un certo punto, sono stati poi loro a smentire tale viceria. La ballerina ha fatto, quindi, sapere che non c'è stata nessuna separazione. Inoltre, sui social, si è spesso mostrata insieme a suo marito, come è sempre stato suo solito, in foto e storie. È chiaro che si è trattato soltanto di voci prive di fondamento. Oggi, Carmen è tra i personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Più amati in assoluto. Ha iniziato a lavorare da giovanissima. Ha cominciato la sua carriera come modella. Partecipando ad alcuni concorsi di bellezza e subito dopo ha esordito in pellicole cinematografiche. Il successo è arrivato in Man che non si dica. Grazie al talento che l'ha portata a spiccare sul palco sia come danzatrice che come attrice. A quanto pare, però, la sua passione è nata in maniera decisamente particolare. Lo ha raccontato lei stessa, in un'intervista. Carmen Russo, arriva solo adesso la verità sulla sua passione. Ecco come anni fa la scoperta. Dopo anni e anni di lavoro in televisione, Carmen Russo non ha bisogno di presentazioni. Oggi è particolarmente famosa ed amata dal pubblico che la segue nelle trasmissioni di cui è, spesso, protagonista. Negli ultimi anni ha fatto parte del grande fratello. Prima come concorrente e poi come coreografa. La passione per lo spettacolo la accompagna fin da quando era giovanissima. Ma a quanto pare, è nata per un motivo in particolare. In un'intervista a Repubblica, è tornata indietro nel tempo. E parlando di sua mamma si è lasciata andare ad un'inedita rivelazione. Mamma faceva la cassiera in un cinema di Genova. Mi ricordo che da bambina usciva tutti i giorni intorno alle due e mezza del pomeriggio per poi tornare alle undici di sera. La ballerina ha rivelato che all'epoca sua madre lavorava come cassiera in un cinema e che quando terminava il suo turno, di sera, suo padre la andava a prendere, portandola spesso con lui. Da lì è nata un po' la mia passione per il mondo dello spettacolo perché quando la mamma iniziava a fare i conti prima di chiudere, entravo zitta zitta nella sala e vedevo i film, ha raccontato. Ebbene. Ed è proprio così. In modo inaspettato mentre sua mamma faceva i conti e lei entrava nelle sale per vedere le pellicole che è nata in Carmen la passione per lo spettacolo.